Non ci crederete mai, ho avuto l'onore di avere la firma del nostro ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Non ci credete? Eccola qui. Per chi non lo sapesse, spero che lo sappiate tutti, comunque insomma, Mario Draghi è stato l'ex presidente della BCE, della Banca Centrale Europea, succeduto poi da Christine Lagarde.